C'è spazio davanti a sé, conclusione incredibile da casa sua. Ha realizzato un gol pazzesco. Già, è incredibile anche solo pensare di poter calciare da lì. È un gol fantastico, praticamente attirato da casa sua. E quando gli lasci quello spazio, piccolo spazio, lui non esita. Non si è fatto pregare.